L'Olimpiede è stata una parentesi stranissima. Perché già il fatto che a causa Covid è stata rinviata di un anno, che per me è stata una cosa fondamentale, perché mi ha permesso di allenarmi un anno in più, essendo ancora giovane. Diciamo che di per sé sono arrivato all'Olimpiede con molta consapevolezza, prima di tutto. Ho fatto un lavoro grosso, anche a livello mentale, prima di arrivare all'Olimpiede e all'Olimpiede stessa. Tornassi indietro di quell'Olimpiede non cambierei niente, se non forse l'approccio mio alla gara. Ero molto teso, ad essere sincero, perché comunque si lavori per anni per una gara sola e ci sta la tensione. Mi sono goduto la magia olimpica, perché la magia olimpica intendo un villaggio olimpico che tiene enti mila persone, tutti sportivi. Il primo giorno, mi ricordo, entro al villaggio olimpico, mangio e a pranzo avevo gli occo vicini di fianco a me. Dicevo, lo vedevo come un mito, c'avevo di fianco a mangiare. Quindi lì capisci che la testa fa tutto. Non puoi pensare di buttare via un allenamento di tanti anni solo perché vuoi goderti il villaggio, vuoi goderti l'Olimpiede. C'è tempo per il dovere prima, no? E poi volere. Perciò io ho avuto la fortuna di saper incanare le mie emozioni solamente per la mia gara. E così è stato. Ho finito l'Olimpiede con due medaglie di bronzo che mi hanno dato una gioia infinita. Sognavo da quando ero bambino. La classica frase, domanda che ti faceva una scuola, come ti vedi da grande cosa vorresti fare? Io più che quello che scriveva era quello che copiava il ragazzo di fianco a me, no? Perché non lo sapevo. Però una cosa certa era che volevo raggiungere l'Olimpiede, volevo raggiungere il top di quello che stavo facendo in quel momento lì. E così è stato, no? Mi ricordo che è il momento più bello perché hai poco tempo per rendetene conto. Io il podio all'Olimpiede l'ho fatto a occhi chiusi, cioè non mi ricordo niente. L'unica cosa che mi ricordo di bello dell'Olimpiede è stata il viaggio tra la piscina e il villaggio olimpico. Ero da solo perché ho dovuto fare un po' di cose dopo la premiazione, quindi ero da solo con altri tre ragazzi in tutto il pullman. E ho aperto lo zaino, di un po' di nascosto, di farmi vedere a nessuno. E guardavo la medaglia e lì realizzi, solo in quel momento sei tu e te stesso, no? E lì puoi realizzarlo. Poi quando inizi a vedere gli altri amici, sono contenti, lì già è una gioia condivisa. Ma la gioia tua, che non so esprimere, cioè non so raccontare. Diciamo che la mia fortuna nel corso della carriera è stata quella di intraprendere da quando avevo 12 anni, mi sembra, un percorso di mental coach. E ovviamente la mente di un ragazzo come ero io al tempo, di 12 anni, è molto più, non dico influenzabile, però riesci molto più a trasmettere qualcosa senza grossi scetticismi, perché probabilmente ad oggi se avessi iniziato a fare un percorso come quello che ho fatto quando avevo 12 anni, molte di quelle cose diventavano da una parte e invecevano dall'altra. Invece la fortuna è stata di iniziare molto presto e capire l'importanza del pensiero, ecco. Io ho una routine magari che faccio prima della gara ed è una routine di visualizzazione della gara, cioè io al di là che noi diciamo sempre che l'allenamento è la gara, la gara è un allenamento, l'allenamento è dove devi veramente gareggiare contro te stesso. In gara devi fare un qualcosa che hai fatto già migliaia di volte prima, no? È molto più semplice, ipoteticamente, perché devi andare da hobby nel mio tempo possibile, devi fare le stesse cose che fai sempre. Però io la gara la visualizzo molte volte prima di farla, quindi arrivo magari sul blocco di partenza anche lì in trans agonistica, quindi non so spiegare le emozioni che io provo, le provo molto più a guardare qualche altra gara rispetto alla mia, no? E lì sai già cosa devi fare. Mi ricordo questo racconto di Phelps che raccontava che una finale olimpica è rientrata l'acqua negli occhialini, ma lui era tranquillissimo, gli dice potevo fare l'occhi chiusi quella gara, sapevi già quante bracciate doveva fare, sapevi già quante cose giuste da fare. Ed è così effettivamente, noi se non arrivi sul blocco con quella determinazione, con quella consapevolezza, la gara non dico che è persa in partenza, ma quasi. La cosa che mi aiuta di più a vivere la sconfitta è una forte autocritica, perché dicendo che il nuoto è prettamente meritocratico, sarò un'ipocrita a pensare che se perdo è quello per qualcun altro, no? Nel senso, quando qualcosa non va bene, il primo a mettersi in discussione sono io, cioè metto in discussione me stesso. E questo mi aiuta tanto. Raramente esco da una gara e dico, oh questa è una gara fatta perfettamente, forse non è ancora mai successo. È bello perché speri sempre, credi sempre, ad avere margine di miglioramento in questo modo. Quindi la forte autocritica è la prima base solida per affrontare una sconfitta. E poi c'è un discorso anche magari più psicologico quasi, no? Ogni tanto, quando non arrivi ad un obiettivo, rischi sempre di entrare in un loop dove tutto va male. Perché magari l'obiettivo è troppo grosso, o pensi che sia troppo grosso. In quel caso, nel mio caso, mi pongo obiettivi magari più intermedi, più facili da raggiungere, raggiungendole viene voglia di prendere uno ancora più grosso, ancora più grosso, in cui si crea poi una catena infinita. Questo anche mi aiuta molto, crearsi degli obiettivi molto intermedi. Io ho avuto un infortunio grosso nel 2017-2018, 18 anni. Sono stati otto mesi fuori dall'acqua. È stato il periodo più bello e più brutto della mia carriera. O meglio, più bello della mia vita, forse, più brutto della mia carriera. Bello perché era l'anno in cui finivo la scuola e potevo vivere finalmente la vita da uno studente, un ragazzo, di come tutti gli altri in realtà. E quindi mi sono goduto appieno quell'anno con i miei compagni di scuola, l'anno che facevi la maturità, la maturità è stata veramente bene. È stato qualcosa di bello per me, di nuovo, quasi. E dal punto di vista sportivo, invece, è stato un po' più difficile, molto più difficile. Dal punto di vista mentale è stato difficile non tanto approcciarsi a quel periodo, a quegli otto mesi, ma una volta tornato, a me sembrava di allenarmi da dieci, ma poi performare da sette. E io non capivo, dicevo, io non valgo questo per me, valgo di più. E lì rischi di arrivare a pensare, probabilmente, non valgo di più, valgo così. E invece, poi, pian piano, tramite anche l'avito di un altro metalcoach, ho fatto uno switch immediato e sono riuscito poi a togliermi questo zaino pesantissimo dalle spalle. Io mi ero fratturato il pub, in poche parole. Frattura la stress al pub, sì. Un po' per usura, diciamo. Quindi è stato un po' più difficile, anche perché è una parte che è sollecitata tanto nella gambatta della rana. Quindi non potevo neanche entrare in acqua e notare la rana. Perciò è stato un po' quello che mi ha scombussolato. Venivo da una stagione precedente sulla Cresta dell'Onda e ti vieni tutto bloccato da un momento all'altro. Non è facile. Poi, se le prime armi, magari con i giornali e tutte queste cose, che prima magari ti pompavano e poi da un momento all'altro non ti cercava più nessuno, e pensi ad andare nel pallone, ti senti quasi abbandonato. Poi la fortuna di quelle situazioni è che guardi il bicchiere mezzo pieno, cresci, capisci le persone con cui ti puoi fidare, cui vuoi tenerti vicino. E quelle sono le persone che poi ti danno forza anche in altri momenti. Sì, allora sinceramente sì. Ho avuto la paura di non riuscire più a tornare e a quel punto avrei mollato tutto, sicuramente. E mi terrorizzavo il fatto di dire che smetterò di nuotare, no? Anche perché mi identificavo in quel momento come il nuotatore, non come la persona. E lì sono cresciuto tanto personalmente. Lì ho detto che probabilmente la persona non dipende da quello che io faccio in acqua. Mi sono creato un'identità mia, l'ho accettata. E ad oggi questa cosa mi aiuta tanto, perché se io penso al mio futuro, non sono terrorizzato nel momento in cui io smetterò di nuotare. Può essere domani, tra un anno, tra due anni, dieci anni. Non mi preme, sono sicuro però che quando arriverà il momento di smettere di nuotare, io sarò da tranquillo, sereno. Perché sarò io aver detto basta al nuoto e non in nuoto aver detto basta a me. La cosa che più capivo, capivo di più scusatemi, quando stavo iniziando ad arrivare a qualche risultato, capivo di essere un po' di una situazione diversa rispetto magari ai miei coetanei. I sacrifici erano tanti e non solo in acqua, anche fuori. Evitavo magari molto spesso di crearmi un gruppo forte di amicizia di fuori del nuoto, perché faccio più fatica. A un certo punto però capisci anche gli amici di scegli. Parlo di amici in questo caso, ma come tutto il resto. Le persone, al di là della famiglia, parlo di persone che scegli tu. E quindi devi capire anche delle persone che possono starti vicini, possono darti qualcosa, anche se sanno che tu non ci sei. Spesso. Io i sacrifici ne ho fatti, non mi sono mai pesati, perché amavo quello che stavo facendo. E in realtà perché quando poi avevi la possibilità di fare quegli sgarri, li godevi ancora di più, te li godevi, no? Mi abbiamo sempre visto come delle macchine, ma gli sgarri ne facciamo. E credo di parlare anche di tutti gli sportivi, no? Però quando li fai, te li gode ancora di più. Un esempio palese è stato un po' quell'anno della maturità, dove ho vissuto quell'anno come una cosa normalissima per qualsiasi altra persona e per me invece è stato qualcosa di indimenticabile. E quello ti fa capire davvero che è ancora più bello quello che stai facendo, perché ti regala delle emozioni più forti in qualcosa di in realtà normalissimo.